Per le prossime amministrative di Albanella scende in campo Enzo Baggini. E di sera un folto gruppo di sostenitori ha partecipato all'inaugurazione della sede elettorale nella frazione Matinella. Stasera incomincia un lungo percorso che sarà fatto di incontri con le persone, incontri che al di là di questo di stasera che ha un carattere di presentazione e chiaramente elettorale, verteranno invece nello specifico sulla soluzione di alcune emergenze del nostro territorio. Saremo noi a proporre possibili soluzioni pronti ad ascoltare tutti i suggerimenti e tutte le possibili correzioni. La spinta principale è stata soprattutto la necessità di dare continuità ad un'esperienza elettorale di cinque anni fa e soprattutto di dare completezza a quella esperienza che sicuramente perdente aveva bisogno di avere le opportune correzioni. E abbiamo individuato insieme con gli altri colleghi di opposizione, al punto tale da poi giungere all'unificazione dei gruppi di opposizione, la strada della comunione e della condivisione delle posizioni come una delle possibili alternative ad un'amministrazione, quella attuale, che pur legittimamente eletta, è stata però eletta contro il volere del 66% della popolazione. Ufficializzato è il nome della lista, un paese per tutti, Enzo Baggini, sindaco. Proposte, progetti, ma soprattutto nuove opportunità per il territorio. Questa è l'idea di Baggini per un'albanella più vicina ai suoi cittadini. Sicuramente il primo, quello che diventerà un chiodo fisso e una sorta di mantra durante l'intera campagna elettorale, sarà il lavoro. Il lavoro inteso non come facilmente può essere frainteso, come scambio di favori, dati o richiesti. Perché noi crediamo che invece l'ente comunale può avere un ruolo importante nelle politiche attive del lavoro. deve innanzitutto riscoprire una propria funzione di connessione fra mondo del lavoro, offerta di lavoro e richiesta di lavoro. Deve essere attivo nei processi di formazione. Sicuramente utilizzeremo enti anche presenti sul territorio in grado di soddisfare questa richiesta, ma soprattutto, e in prima battuta, lavoreremo molto su quello che è il servizio civile. Bisognerà far entrare albanella in questo circuito virtuoso che ha portato nel corso degli anni all'occupazione, sia pure per un solo anno, ma regolarmente retribuita, di decine e decine di giovani. È importante che questi giovani prestino la loro opera retribuita anche al fine di acquisire delle competenze che li renderanno sicuramente più competitivi sul mercato del lavoro. Unione e condivisione sono le risposte all'attuale amministrazione che dopo cinque anni si presenta divisa in più pezzi e distaccata dalla comunità. Oggi paradossalmente si sta parlando di una possibile terza lista capeggiata dall'attuale vicesindaco, che peraltro non si è dimesso. Un consigliere di maggioranza già da un anno e più è passato fra i banchi della minoranza. A questa incapacità di tenere unito un gruppo di maggioranza noi come opposizione abbiamo lavorato in questi cinque anni nel tentativo di sottolineare il valore dell'unità e della condivisione. Difatti il principio cardine sul quale proveremo a costruire la nostra proposta amministrativa sarà proprio quella di condividere e di far partecipare il più largamente possibile anche soggetti che magari provengono da esperienze politiche diverse. La sfida che noi poniamo questa sera è proprio la capacità nostra di mettere insieme. Viviamo un'epoca in cui è più facile dividere che unire. Il progetto che ci proponiamo è ambizioso e come tale è difficile ma crediamo di essere bravi e quindi di portarlo fino in fondo. D'altronde questo è un processo che è nato già cinque anni fa e i risultati che vediamo già stasera e che sicuramente saranno più confortanti nelle settimane a venire ci dà ragione su questo modo di intendere l'impegno politico.